Non è possibile che dobbiamo farci rovinare la vita dalle donne? E' fatta una camomilla! Ma uno l'ha tratto coi quanti pianzi eh? Amore, tesoro, topolina, baduffolina... E' lei che si fa per tre con i facci? Ma come ti permetti brutta stronza che non sei cazzo? Attacco io o attacchi tu? Attacco io? Attacco io, attacco! No, non mi ci mettono pure tu Vincenzo! Non mi chiamare Vincenzo perché mi incazzo! Siamo Enzo! Perché a me le donne mi hanno sempre aggredito e mia moglie invece doveva fare gli assalti Sì sì, aggredito! 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 Metti i quattro uomini insieme e guarda che cosa ne viene fuori! Ma non dite che le donne! Guardate, 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 guardate! Ragazzi, siamo uomini veri? Siamo uomini uomini? Ehi! Sì, sono le bomba, piacere! Senti, e tu? Non ce l'hai? Una persona che ti protegge? A bodyguard? Mi chiedi di dire un pappa? Pappagard! Con chi comincio? Con io! A dopo ragazzi! Sì, dopo ragazzi! E mi raccomando, ti rende duro! Sì, sì, sì! Perché dopo arriva il vostro turno! Sì, sì! Sì, sì! Bênate! Sì, sì! Sì! Grazie a tutti.